Ciao Iro, l'hai sentito l'ultimo podcast? Come hai potuto sentire l'argomento principale era comprendere il quando poter iniziare a fare un determinato investimento o comunque entrare nel mondo degli investimenti. Ora non sappiamo se hai già iniziato a fare investimenti oppure no, però se sei all'interno di questa community di certo qualcosa ti ha fatto muovere, qualcosa ti ha portato qui a chiacchierare insieme a noi. Sì perché c'è sempre qualcosa che scatta quando decidiamo di prendere anche sotto un certo punto di vista in mano la nostra vita, quando decidiamo che ora deve cambiare qualcosa. Può essere devo iniziare a fare investimenti, può essere ho appena iniziato una pianificazione per arrivare al risultato, quindi magari una ringhietta automatica. E c'è sempre quel qualcosa che scatta e che da quel momento in poi non si torna più indietro. E ce ne sono diverse, ognuno infatti ha la sua motivazione. C'è chi magari ha avuto il boost per un'accezione positiva, quindi magari ha conosciuto una persona, è entrata in un ambiente, è entrata in una community e ha visto la scintilla, conoscendo una persona che ha già ottenuto risultati. C'è chi invece magari, come spesso capita, per un'accezione negativa, quindi magari ha perso il lavoro, oppure il lavoro sta andando ugualmente bene, ma ha compreso che non ha più tempo e quindi è scattato in quel momento qualcosa. Io e te in questa settimana parleremo di cosa è scattato a noi, ma ora vorremmo sentire la tua. Quindi Hero, qual è stata quella scintilla che ti ha permesso di fare il tuo investimento o che ti ha portato qui a studiare e a ricercare informazioni per metterti in gioco. Quindi commenta pure qui sotto con la tua esperienza, raccontandoci qual è stato il tuo boost e qual è stato il tuo punto di svolta, così da poter vedere tra noi e la community se c'è stato qualche elemento comune che ci ha fatto crescere, che ci ha fatto svoltare nello stesso modo. Quindi Hero, ti aspettiamo qui nei commenti, di la tua e ci vediamo al prossimo aggiornamento. Ciao Hero!